C'è l'interesse dell'archivio di Stato all'acquisizione del monumentale Palazzo delle Poste di Barletta, l'immobile situato nel cuore della città sul quale a suo tempo il Consiglio Comunale decise di non esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto a causa dell'impegno finanziario giudicato troppo oneroso. La società privata che ne detiene la proprietà, la Palladio SRL, ha mostrato disponibilità alla vendita fissando il prezzo a 4.200.000 euro, una cifra considerevole ma non più fuori portata. Per far fronte alla necessità di reperire nuove sedi per la conservazione dei documenti di interesse pubblico, nella Finanziaria 2022 il Governo ha messo a disposizione 105 milioni di euro per l'acquisizione di immobili destinati agli archivi di Stato e sedi sussidiarie. Il direttore dell'archivio di Bari e delle sezioni di Barletta e Trani, Michele Grimaldi, ha recapitato al Ministero della Cultura tutta la documentazione necessaria per candidare l'ex Palazzo delle Poste a nuova sede per la conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico. L'idea, ha spiegato Grimaldi durante la trasmissione Spazio-Città, è di creare un vero e proprio centro culturale del territorio, preservando la grande rilevanza storica di un immobile sul quale sono ancora ben visibili i segni del terribile cidio nazista che si consumò nel settembre del 1943. Il prezzo dell'immobile è veramente esiguo rispetto all'importanza non architettonica dell'immobile, ma proprio della storia e soprattutto di quello che rappresenterebbe. La risposta del Ministero si conoscerà nelle prossime settimane. Una volta acquisito l'immobile, spiega ancora Grimaldi, saranno più facilmente reperibili i fondi per la riqualificazione e gestione della struttura. Se diventerà un immobile dello Stato e del Ministero della Cultura, che è la cosa ancora migliore, noi avremo a disposizione dei fondi che ci rivengono direttamente dal Ministero. La sovrintendenza effettuerà tutti i lavori di adeguamento che andranno fatti. Quindi noi andiamo veramente, fra virgolette, a salvare un immobile che, essendo soggetto a vincolo, ha un mare di prescrizioni. E chi se lo compra se sa di andare incontro a problemi grossissimi da quel punto di vista?